Buongiorno mi chiamo Marco Lucchiara mi trovo a Vicenza esattamente via liberica 802 nel negozio dove un mio cliente mi ha chiamato da Verona per mettere in sicurezza il suo punto vendita mi trovo qua per un altro motivo oggi proprio perché dopo aver lavorato ho messo in sicurezza il negozio in feriante, casseforti e quant'altro mi sono ritrovato ad essere un suo cliente e ciò che mi ha portato a diventare essere suo cliente è per il servizio che ho trovato nel negozio che ho conosciuto la signorina Serena che è una gemologa e che mi ha dato molte informazioni in merito a pietre preziose come creare un investimento e questo ha portato a essere loro cliente io sono il titolare delle MC Serature siamo in via Legnavo e vi consiglio che se volete per un vostro investimento o realizzare dei vostri beni di venire in via Berica 802 a Vicenza è stato un piacere auguro a tutti una buona giornata